Come installare un lavabo da appoggio Livello di difficoltà, un martello Installato su un mobile o su un piano da bagno, il lavabo da appoggio con rubinetto esterno offre numerose possibilità decorative. Serviranno Un lavabo da appoggio Una piletta Un sifone Un miscelatore per lavabo Due flessibili per l'alimentazione Due raccordi a compressione Due raccordi filettati maschio-femmina Due raccordi conici dritti Silicone Un tubo di polipropilene di diametro 32 Una curva in polipropilene E lana d'acciaio Dobbiamo avere a portata di mano Un flessometro Un pennarello Un trapano Una chiave combinata Una pistola per silicone Una pinza regolabile E una sega a tazza In un lavabo più semplice Come un modello senza troppo pieno È sufficiente un foro circolare Che consente il passaggio della piletta Nei modelli con troppo pieno La base è più ampia E richiede un foro con una sagoma precisa Fornita con il lavabo Scegliamo un miscelatore con altezza adeguata al lavabo Se il lavabo è senza troppo pieno Prendiamo un miscelatore senza saltarello E una piletta a scarico libero Posizioniamo il lavabo sul piano E tracciamo il foro per il passaggio della piletta Stabiliamo la posizione del miscelatore E la dimensione del foro Considerando che deve consentire il passaggio dei flessibili Ma essere più stretto della base del miscelatore Per offrire un appoggio stabile Pratichiamo i fori con utensili adatti al tipo di supporto Utilizziamo una sega a tazza su un piano in legno o derivati Un trapano con punta al carburo di tungsteno Su un piano piastrellato Avvitiamo a mano i flessibili e la barra filettata Inseriamo nel foro i flessibili con la rondella della base E avvitiamo la placca di fissaggio sotto il piano Stendiamo il silicone sotto il lavabo E posiamolo subito Inseriamo la piletta con la sua guarnizione Poi serriamo Possiamo collegare i flessibili d'alimentazione dell'acqua calda e fredda Con raccordi senza saldatura Strofiniamo accuratamente l'estremità del tubo Con la lana d'acciaio Inseriamo sul flessibile un raccordo conico dritto con la sua guarnizione Posizioniamo l'ogiva sul tubo di rame E il raccordo a compressione Il tubo deve entrare fino in fondo nel raccordo Prima di serrare Per convenzione, guardando il lavabo di fronte L'acqua fredda esce sempre a destra L'acqua calda a sinistra Colleghiamo il sifone alla piletta con la sua guarnizione E avvitiamo a mano Levighiamo l'estremità del tubo Misuriamo la distanza tra lo scarico e il sifone Tagliamo il tubo a misura Assembliamolo alla curva E fissiamolo Un'installazione semplice da eseguire Per rinnovare velocemente il bagno Grazie a tutti Grazie a tutti